Musica Fresh, fresh Fresh chicken Número uno Sì, sai del messicazú? Caldo, caldo e per altri paesi viene qui compra il pollo e fa un rito a casa del santero o della santera qui lo matano con un cuchillo con un cuchillo in la garganta e allà in la santeria non so come facendo questo se limpiano con la gallina se limpiano qui, il corpo, tutto però io non so cosa succede con il pollo tutti i giorni vengono i mexicani vengono di molti paesi le Nazioni Unite vengono